Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti a un nuovo video, noi siamo Marisa e oggi faremo una nuova frida diciamo, mangiaremo soltanto per 24 ore caramelle, guardate abbiamo tante caramelle abbiamo questi, abbiamo questi a vivo, sono delle caramelle con la plastica fuori per non andare da tutte le parti, poi abbiamo questi che sono con dentro la frutta, questa è la coca cola, buona, e abbiamo le galador, e poi abbiamo questi che ce ne sono tanti tanti diversi, ne possono essere tante cose, poi questi, quelli normali, e poi abbiamo con questi, con la zucchero, come, più buoni però, ok, sono buonissimo, e uno di questi sarà la nostra colazione, allora, ma allora facciamo così, prendiamo questo, si ok ma prima che inizia, allora va a fare cosa, prendiamo questo, prendiamo questi, mettiamo l'illa, e prendiamo le nostre tazze, per ora è la cosa mia, guardate che belle di principessa, c'è anche un cucchiaio, e poi ok, ci sento anche il cuore, si buonissimo, basta, basta, allora facciamo così, da me, guardate ragazzi, ok, guardate, e iniziamo, guardate, e iniziamo, allora prendiamo il cucchiaio, guardate, e iniziamo, guardate, e iniziamo, guardate, e iniziamo, buono, come prima, è buono, le caramelle sono buone, però non fanno tanto bene, anche io ho guardate, 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 però non c'è anche latte, no, 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 abbiamo quasi finito, mi mando l'anello, guardate c'è il coccodrillo o me lo sa su testa, ok lo prendo, ottime, ho usato due anelli, guardate anche io gli ultimi orsette, e io ho finito, mi manca più l'anello, guardate è anche l'anello, e non è un anello vero, ma è una caramella, ottima, buonissima, mi mancano ancora, ok avanti questi, e dopo ci vediamo al pranzo, intanto io prendo il slime, per giocare un po', così non ha noia, e oggi intanto sto preparando le cose, per dopo, e io gioco con lo slime, intanto perché mi sto annoiando, quindi oggi si vedete lo slime, che bello, guardate, che bello, vi ricordate quella volta che Marisa aveva fatto l'anello, che era piccola, adesso non è più, perché dopo un po', non è più piccola, sapete? guardate ragazzi, ci sto preparando la tavola, ho, 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 prendo due tipi di allievo, questi qua normali, e poi anche quelli alla coca cola, e sto, e metto anche i bicchieri, e guardate qua c'è l'acqua, se abbiamo sete, perché ce ne abbiamo tanta noi, e adesso devo fare tu chiamare a orella, 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 vieni, è pronta la tavola, dai, sentite, dove, sedete, qua, ok, quale vuoi? questo, ok, 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 questa è una tavola, ok, ok, qua, ovanzo è un po' rischio, ok e mettiamo lì abbiamo preso pure le porchette perché quando si va al pranzo si mangia con le porchette buono mi piace allora brava anche se non faccio niente andate a mando gli orsetto guardate questo verde è vero devo anche le pille mi sono dimenticata ok ho messo pure l'acqua buoni molto buoni mi piacciono tantissimo ok noi adesso mandiamo tranquillamente ci vediamo dopo per merenda ragazzi noi siamo nei perdi di marelli siamo per tutto il nostro papà adesso guardate dove siamo guardate guardate è bello che bello che bello che bello molto bello guardate guardate Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.